La protagonista di questo video è il cuore pulsante delle automobili elettriche, dette anche ovviamente autobatteria ed infatti la protagonista di questo video è proprio la batteria, un elemento cruciale di cui parlare quando si parla di adozione in massa di vetture con questa alimentazione. Certo perché a livello ambientale l'impatto principale lo hai nella produzione della batteria ma anche a livello di facilità di utilizzo la batteria è fondamentale perché ti deve dare autonomia e quindi gestire l'energia a bordo è fondamentale ma anche il fatto di poter ricaricare velocemente così che si possa sfruttare una flessibilità che da parte della rete di ricarica nel corso del tempo è migliorata enormemente. Nell'adozione massiva delle vetture a batteria è fondamentale la ricerca, l'industrializzazione ma anche il riciclo eventuale nel caso in cui la batteria debba essere cambiata o dipristinata, tutti aspetti fondamentali cruciali e noi abbiamo voluto fare questo video che sarà un video particolarmente lungo, una sfida un po' nei vostri confronti, un po' anche nei nostri confronti, un video che nella sua registrazione e realizzazione ha impiegato settimane, anzi in realtà ormai dovremmo parlare quasi di mesi per poter mettere insieme tutti i professionisti che vedrete e che sentirete raccontare la loro esperienza all'interno di questo video perché abbiamo voluto andare a scoprire qual è lo stato attuale della ricerca sia accademica ma anche dell'industrializzazione del mondo dei servizi e del riciclo nel nostro paese. Questo è stato fondamentale per capire quanto effettivamente in futuro possiamo aspettarci di sviluppo industriale in Italia legato proprio al mondo della mobilità elettrica. La prima fermata di questo viaggio è a Torino, al Politecnico di Torino per l'esattezza, dove abbiamo incontrato la prof Silvia Bodoardo per rispondere ad alcune delle domande più comuni sulle batterie. Professoressa, parto da una domanda molto semplice e anche molto ampia. Che cos'è una batteria? Buongiorno a tutte e tutte, la batteria è un dispositivo che converte l'energia chimica contenuta dentro alla batteria appunto in energia elettrica. Quindi è un sistema con cui io faccio avvenire delle reazioni chimiche e queste reazioni chimiche provocano un movimento di elettroni, quindi una corrente elettrica che io posso sfruttare per far funzionare un dispositivo qualsiasi che può essere molto piccolo, un cellulare ad esempio potrebbe essere molto grande, un'auto, una nave eccetera. Di solito si sente dire poi che per ridurre i consumi bisogna elettrificare, ma che cosa rende così efficiente l'elettrificazione di un sistema? È proprio intrinseco nel sistema, da un punto di vista termodinamico proprio della reazione che avvengono, la reazione di combustione è una reazione molto poco efficiente, perché la gran parte dell'energia utilizzata viene sprecata in calore. Se per fare l'esempio tipico del veicolo ad esempio, in un veicolo a combustione l'energia generata dalla reazione chimica serve per far muovere le ruote ma poi il motore è molto caldo, quindi solo il 30% anche un po' meno dell'energia contenuta dentro il nostro serbatoio viene utilizzata effettivamente per far muovere il veicolo. Il resto dell'energia viene dispersa come calore. Viceversa nei sistemi elettrici sono sistemi molto più semplici da un punto di vista della realizzazione del motore eccetera ed è esattamente invertito, cioè più del 70% dell'energia contenuta dentro la batteria serve per far muovere il veicolo stesso. La batteria di per sé è molto più efficiente perché abbiamo oltre il 90% dell'energia che noi andiamo insieme a batteria può essere utilizzata, ma considerando l'insieme ovviamente poi ci sono delle dispersioni che sono legate agli attriti e così via del veicolo, però è un sistema molto più efficiente come lo è per esempio nel cellulare o negli altri sistemi ed è questa la ragione per cui nel tempo noi ci siamo già molto spostate verso i sistemi elettrici piuttosto che non ai sistemi a combustione. Sappiamo però che non tutte le batterie sono uguali, quali sono le differenti composizioni chimiche che sono più presenti sul mercato e quali sono le loro caratteristiche? Ecco il grande vantaggio di utilizzare le batterie è la possibilità di avere una batteria che sia fatta su misura a seconda del tipo di applicazione quindi la composizione chimica di ciò che io metto dentro la singola cella della batteria è fatta su misura per quel tipo di applicazione. Per esempio noi stessi usiamo molte tipologie di batterie nella nostra vita, abbiamo la batteria al piombo nel veicolo a combustione, abbiamo una batteria che usiamo per il cellulare, la pila alcalina che magari usiamo invece per far funzionare telecomando o altri dispositivi. Nel caso dei veicoli elettrici in realtà ci possono essere diverse tipologie di chimiche e possono essere a basso costo come per esempio la batteria litio-ferrofosfato che quindi contiene sostanzialmente il litio e il ferro come elementi principali e che ci servono per la potenza ed è un tipo di batteria che si usa per esempio anche per stoccare l'energia nelle abitazioni, dove se noi abbiamo un'abitazione che utilizza fonti rinnovabili come per esempio pannelli fotovoltaici, quell'energia la possiamo stoccare una batteria che ci costa poco e che ci garantisce migliaia di cicli, ma ha una densità di energia più bassa, quindi è più conveniente utilizzare degli ossidi che sono a base di diversi metalli e i metalli tipici sono il nickel, il manganese e il cobalto. E il cobalto è uno di quegli elementi che tutti definiamo un elemento critico e un elemento è critico quando per esempio è poco disponibile sul pianeta, può essere tossico oppure è localizzato in una specifica zona del pianeta, quindi non è democraticamente distribuito in tutto il mondo. La cosa da far osservare è che mentre per applicazioni elettroniche noi abbiamo all'interno del singolo materiale una quantità alta di cobalto, sostanzialmente il metallo utilizzato per la conversione elettrochimica, quindi per generare la corrente elettrica e sostanzialmente sono cobalto, nei veicoli elettrici invece è una quantità che viene via via diminuita. Per capirsi, le prime auto diciamo in questi anni, il gircolo, hanno ancora batterie che hanno una composizione chimica tra nickel, manganese e cobalto 1-1-1, quindi 33% di nickel, 33% di manganese e 33% di cobalto. Oggi siamo passati all'8-1-1, quindi 80% di nickel, 10% di manganese e 10% di cobalto e arriveremo ad eliminarlo. E quindi se io devo andare a prendere per esempio il materiale contenuto oggi in una batteria del veicolo attuale, posso costruire due nuove, con lo stesso contenuto di cobalto e due nuove altre batterie. Mi lascio aggiungere che siamo tutti molto preoccupati, però andiamo a guardare percentualmente in massa quanto effettivamente cobalto e quanto litio è contenuto in un veicolo. Io faccio a volte questa domanda e le risposte sono le più varie, ma vi dico che oggi, negli veicoli attuali, noi abbiamo circa l'1% in peso di litio all'interno del pacco batterie, considerando tutto il resto, quindi i contenitori, la parte elettronica e così via, e il 3% in massa di cobalto. Quindi sono quantità, per carità, che vanno considerate con attenzione, ma molto molto piccole rispetto a quello che è la percezione comune. Un tema caldissimo poi è quello della scarsità delle materie prime, cioè nella produzione effettivamente possiamo vedere in futuro mancanza di determinate materie prime per produrre batterie oppure no? Allora, io tengo sempre a precisare che la batteria al litio è una batteria abbastanza giovane, perché è la prima batteria commerciale del 1991 che è stata commercializzata da Sony. Ad esempio la batteria al piombo è invece una batteria che conosciamo molto bene, ha oltre 160 anni di storia. Questo ci fa capire che in realtà è un mondo in grandissima evoluzione, cioè man mano la tecnologia della batteria sta cambiando notevolmente. Vi ho già fatto l'esempio di come cambiano i materiali nel tempo. Oggi noi usiamo una batteria che ha un certo contenuto di litio e nel futuro cambierà un pochettino la composizione, stiamo studiando sistemi molto diversi, per esempio per le applicazioni stazionari e probabilmente non si userà neanche più la batteria al litio, ma andremo verso sistemi sodio-ione che iniziano a diventare commerciali oggi e dobbiamo dare il tempo ovviamente a crescere questi sistemi. E poi quello che io tengo sempre a dire è che la batteria non è un vuoto a perdere, cioè non è un sistema come un combustibile che nel momento in cui ho bruciato ho ottenuto dei gas e non posso più riconvertirli di nuovo nel combustibile di partenza, ci vogliono i millenni come ha fatto la natura. Quello che sta dentro la batteria resta dentro la batteria, quindi noi possiamo prenderlo, riaprire la batteria e rimetterlo in circolo, quindi di riutilizzarlo, riciclarlo completamente e quindi avere dei nuovi materiali che ci permetteranno di costruire altre batterie. È chiaro che bisogna arrivare ad un sistema, diciamo a un regime in cui ne avremo abbastanza, ma noi come ho già spiegato possiamo per esempio dalle attuali batterie avere una quantità di cobalto che ci permette di farne altre due, per esempio se ne stiamo diminuendo, e anche il litio si sta scoprendo luoghi e altre miniere dove è sempre più disponibile, ma certamente non lo perdiamo e quindi possiamo rimetterlo in ciclo al 100%, come stiamo facendo oggi per esempio con le tecnologie al piombo. Il 100% del piombo contenuto oggi nelle nostre batterie deriva dal riciclo, non andiamo più in miniera a tirare fuori il piombo, l'abbiamo bandito da molte applicazioni, per esempio dai combustibili abbiamo eliminato il piombo nel tempo perché era tossico, ci creava un sacco di problemi. Lo manteniamo nella batteria perché possiamo prendere una batteria vecchia, riciclarlo e ottenere una batteria nuova, che è quello che facciamo, quindi la nostra batteria nel veicolo a combustione in realtà è centenaria perché contiene il piombo che è già stato utilizzato precedentemente in altre batterie. Di recente si è parlato tanto anche di batterie LFP, quindi litio ferrofosfato, parlando appunto di una necessità di ridurre i costi, di aumentare comunque la diffusione di vetture in larga diffusione, appunto in larga scala, ma quali sono le caratteristiche invece di queste batterie in particolare? Allora, intanto soprattutto sono più economiche, non contengono metalli pesanti, appunto elementi critici come può essere per esempio cobalto e come potrebbe diventare il nickel. Il litio ferrofosfato di per sé è un materiale che è costituito da legami chimici molto forti, quindi gli elementi sono legati fortemente tra di loro, quindi sono molto più difficili da degradare. Infatti la batteria litio ferrofosfata ha una densità di energia più bassa rispetto agli ossidi di cui ho parlato prima e questo è legato alla tensione della batteria. Perché usiamo il litio? Perché ci permette di avere una tensione, una differenza di potenziale volte, che sono quelle con cui compriamo la batteria, più ampi possibile e questo ci garantisce una densità di energia più elevata rispetto per esempio ad altri sistemi. Il litio ferrofosfato mi consente di avere una differenza di potenziale, una tensione un po' più bassa rispetto agli ossidi di cui abbiamo parlato prima, ma di contro abbiamo legami molto più forti, un sistema molto più stabile e quindi molti più cicli disponibili della batteria e soprattutto la potenza, cioè io posso andare a correnti molto più elevate rispetto a quello che posso fare con altri sistemi. Il CARS, che era diciamo un sistema che si utilizzava in Formula 1 per permettere l'accelerazione molto spinta, era proprio costituito da batterie costituite da litio ferrofosfato proprio perché permettevano di andare a correnti molto più elevate. Quindi da un lato i costi, la disponibilità, la, diciamo, stabilità chimica del materiale e soprattutto la garanzia di potenza. Quindi in realtà non è una soluzione meno sofisticata rispetto a quella degli ossidi? Allora è una soluzione, diciamo, già ben nota, è molto studiata e ci permetterà sicuramente anche la possibilità di avere un'economia di scala maggiore e, diciamo, una distribuzione di massa per, diciamo, veicoli magari più piccoli, dove abbiamo meno esigenze, per esempio, di lunghissimi chilometraggi, cosa che invece ci garantisce di più la batteria con gli ossidi. Poi ovviamente ci sarà anche, c'è già oggi tutta la parte di elettronica e di gestione dell'intero sistema che può modulare e modificare, ovviamente, come noi utilizziamo la batteria. Aggiungerei che poi anche il litio ferrofosfato stesso subisce delle ottimizzazioni e stiamo andando a sostituire il ferro con altri elementi, come il manganese, per esempio, che ci permette di alzare un po' questa differenza di potenziale, garantendo lo stesso la stabilità ma andando ad aumentare questa differenza per cui la densità di energia sarà più elevata. E quindi sono proprio in atto progetti che ci permetteranno di andare a modificarne la struttura chimica per garantire maggiori densità di energia, quindi maggiori numeri di chilometri, diciamo, finali del veicolo stesso, pur garantendo la stabilità e soprattutto il basso costo, che è quello che noi adesso stiamo andando a cercare anche. Chiaramente quello che poi interessa ancora di più alle persone che acquistano un'automobile elettrica è effettivamente quanto durano le batterie, che poi sono l'elemento più importante, più delicato e più critico, evidentemente, in un'automobile elettrica. Ma quanto può durare una batteria, visto che di solito si va a cicli, cosa si può aspettare che acquista una vettura elettrica? Beh, un po' ho già introdotto il fatto che dipende molto dal materiale, quindi a seconda del tipo di chimica che c'è dentro la singola cella cambia anche il numero di cicli, che questa può dare, come appunto anche la parte elettronica che è quella che deve gestire tutto il sistema. Ad oggi comunque il numero di cicli di una batteria è più che sufficiente per la vita di un veicolo, per cui si parla. Gli stessi produttori ci garantiscono la batteria per almeno 8 anni e dopo 8-10 anni le performance della batteria sono ancora l'80% di quelle iniziali. Dopodiché non è più adattissima per ciò che riguarda le applicazioni automotive e quindi si può riutilizzare, per esempio, in altri settori. Quindi noi ci aspettiamo che questo dato ancora aumenterà, i veicoli che sono oggi in giro sostanzialmente termineranno la loro vita con il loro pacco batteria, aggiungerei anche che il veicolo stesso è molto più semplice, molto meno soggetto ad usura, non abbiamo quasi più i freni, non abbiamo più l'olio, tutti i vari sistemi che noi dobbiamo cambiare, quindi probabilmente invece potremmo aspettarci anche un mercato di seconda vita del veicolo in cui magari cambio il pacco batteria, ma il costo diventerà molto più bassi. Chi lo sa, in futuro ci aspetta molte innovazioni e quindi... Un altro tema importantissimo è quello legato più alla sicurezza, cioè al rischio incendio. Di notizie di questo genere di vetture elettriche che prendono fuoco, ce ne sono tante, legate magari a cortocircuiti all'interno della batteria, spesso anche un po' per fare notizia, diciamo così, ma quanto c'è di vero effettivamente, qual è il rischio effettivo di sicurezza per le vetture elettriche? Qualsiasi dispositivo non è immune da rischi, come sappiamo. Voglio solo anche ricordare che i combustibili che abbiamo a bordo dei veicoli a combustione sono combustibili e come tali proprio soggetti ad incendio, non è che non ci è mai capitato di vedere auto che bruciano a combustione. Anche l'auto elettrica può avere un rischio, ovviamente, lì dipende molto dalla gestione elettronica principalmente di tutto il sistema. Molti sistemi sono, diciamo, molto più sicuri e nel tempo anche la sicurezza delle batterie sta fortemente migliorando e lo vediamo tutti i giorni. Noi abbiamo tutti in mano un cellulare, un sistema che usa batterie, di cui ci fidiamo ciecamente. Ci sono stati momenti in cui anche i cellulari potevano bruciare, per esempio, e tipicamente questo succedeva quando erano in carica e quando il caricabatteria non era in grado di colloquiare con il chip a bordo della batteria, spesso perché la cambiavamo, ne mettevamo magari una che ci costava meno, però non era dedicata al sistema. Oggi, per esempio, questo non si può più fare perché non posso più cambiare io la batteria e questo ha risolto moltissimi problemi sulla sicurezza perché non si sentono più troppe notizie in questo settore. Quindi è un campo nuovo, nel senso che è ovvio che non abbiamo ancora in giro tutti i veicoli elettrici, però anche nei paesi come la Norvegia, dove il parco circolante di veicoli elettrici è molto molto elevato, quindi oltre il 50%, non abbiamo un rischio incendio che è superiore a quello del veicolo a combustione, da quello che sono le notizie che io ho. Quindi, anzi, posso dire che noi non dobbiamo sbagliare adesso perché se si sbaglia ora e quindi i veicoli iniziano a bruciare qua e là, probabilmente la transizione elettrica non saremmo mai in grado di farlo, quindi mi sentirei abbastanza sicura e mi sento sicura di sedermi sul veicolo elettrico oggi. Uno degli argomenti che di solito si porta contro le automobili elettriche è il fatto che in fase di produzione l'inquinamento è molto più alto, soprattutto legato alla produzione della batteria, rispetto a vetture tradizionali. Qual è effettivamente l'impatto e cosa si può fare in questo senso? Allora, sulla produzione ci sono due aspetti molto importanti. Da un lato la quantità di energia che noi serve per produrre la cella e quindi lì noi possiamo lavorare principalmente su come produciamo l'energia. Se noi produciamo energia che è più green possibile, quindi da fonti rinnovabili, riduciamo fortemente questo impatto e lo possiamo fare solo nel momento in cui noi andiamo a utilizzare sistemi a base elettrochimici. Quindi ovviamente in un serbatoio di un veicolo non posso mettere una fonte rinnovabile, ma metterò solo un sistema che non è rinnovabile intrinsecamente. Quindi questo è un primo aspetto. L'altro aspetto è quello degli elementi, diciamo, degli elementi chimici che utilizzo durante la fase di produzione. Oggi per fare uno dei due elettrochi, la cella elettrochimica è costituita sostanzialmente da due elettrodi, quello che chiamiamo più e quello che chiamiamo meno, che poi si chiamano anodo, cioè catodo e anodo, e una parte liquida che è l'elettrolita che serve per far passare gli ioni dentro la soluzione. Quando andiamo a produrre l'elettrodo negativo noi usiamo già un sistema che è molto semplice, che è a base acquosa e quindi questo ha un passo impatto ambientale. Quando invece andiamo a produrre il catodo, oggi si usano anche dei solventi che invece hanno un certo impatto ambientale e quindi io devo abbatterli prima di mandarli in atmosfera e di solito quello che si fa è che si recuperano e si riutilizzano per la nuova produzione. Oggi però noi stiamo molto studiando, e già lo stiamo facendo per molti sistemi come ad esempio litio, ferro, fosfato, una produzione tutta a base acquosa. Ad esempio io coordino un progetto europeo che si chiama Giga Green, il cui scopo è proprio quello di andare verso un processo che sia a minore impatto possibile e quindi quello si chiama Green proprio perché va verso un sistema completamente verde, quindi sostituisce completamente tutti i solventi a base organica con sistemi a base acquosa. Devo anche ridurre la quantità di acqua più possibile utilizzata ovviamente e soprattutto devo poterla riciclare, quindi il sistema deve essere chiuso. È un percorso ovviamente, stiamo imparando oggi a fare le celle e sicuramente in Europa abbiamo uno scopo molto importante che è quello di avere delle batterie che siano completamente sostenibili e al 100% riciclabili, quindi anche come noi oggi andiamo a disegnare le celle e i pacchi batteria, deve essere tale per cui sia più facile possibile smaltirle. In questo senso l'Europa ci ha anche imposto una nuova regulation che sta diventando legge ora che ci obbliga a riciclare le batterie in percentuale via via crescente nel tempo, quindi è un percorso che stiamo facendo. Come dicevo oggi il 100% dei piombo è riciclato, anche nel caso del litio man mano andremo a crescere la percentuale di elementi che verranno via riciclati e ci obbliga ad avere quello che è il battery passport, quindi una specie di passaporto della batteria, quindi un QR code stampato sulla cella che ci dirà qual è la composizione chimica all'interno della cella e possibilmente anche un po' il suo stato di salute. Sapere che cosa c'è dentro la singola cella ci faciliterà moltissimo nell'ambito del riciclo perché quando io ho questi pacchettini grigi tutto uguali io saprò se questo contiene l'iteoforosfosfato andrà a un sistema di riciclo, se contiene NMC andrà ad un altro e così via, quindi questa cosa renderà tutto molto più semplice e fattivo. L'importante è non buttare via le batterie ma raccogliere, questo è già obbligatorio oggi, il 100% delle batterie deve essere raccolto. Trattandosi quindi di una tecnologia che ovviamente è in via di sviluppo anche perché è nuova per quel che riguarda l'applicazione in massa, che cosa possiamo aspettarci invece per il futuro, le prossime tecnologie che arriveranno più avanti, appunto magari diverse composizioni o design delle celle, cosa si sta facendo in questo senso? Beh, è un mondo in grande evoluzione, appunto parlavo prima della maturità che ha la cella litio-ione che ha una trentina d'anni di evoluzione e già sono successe moltissime cose come abbiamo visto. In realtà l'evoluzione è ampia, ci sono molte chimiche sotto studio, ad esempio la sostituzione dei metalli pesanti con lo zolfo o con l'ossigeno, quindi per andare a densità di energia utilizzando la batteria litio-zolfo, ad esempio la densità di energia teorica è cinque volte quella della litio-ione, quindi molto più ampia, ci permetterà di fare sicuramente molti più chilometri rispetto a quelli attuali. Lo zolfo poi è estremamente disponibile, è uno dei prodotti di scarto nella raffinazione del petrolio e di questi sistemi, quindi ne abbiamo veramente tantissimo e potrebbe essere un buon modo per riciclare qualcosa che dobbiamo abbattere dando adesso un maggiore valore aggiunto. Ma poi il sistema è stato solido, sostituendo quella parte liquida che dicevo tra i due elettrodi del veicolo e questo anche ci garantirà maggiore densità di energia, soprattutto volumica nel senso di spazio che le celle potranno occupare, quindi potrò metterne di più in un veicolo se voglio fare più chilometri oppure alleggerire il tutto perché se ne metto di meno tutto il sistema sarà sicuramente più leggero e soprattutto sarà anche molto più sicuro. Oggi le celle stato solido si utilizzano per alcune applicazioni specifiche nell'ambito dell'elettronica per esempio, quindi è già una tecnologia esistente ma che fatta su grandi dimensioni ci richiede ancora un pochino di tempo ma si sta andando anche velocemente in quella direzione. L'uso di altri cationi, di altri ioni diversi dal litio, il sodio l'abbiamo citato prima ma magari potremmo aspettarci un domani potassio oppure calcio, magnesio, le tecnologie in studio sono veramente moltissime ma poi ci sono anche delle varie, delle aggiornamenti, delle modifiche, degli avanzamenti anche da un punto di vista tecnologico all'interno della cella, ad esempio proprio all'interno di un progetto che coordina la ricerca in Europa che si chiama Batteri 20 e 30 abbiamo proposto delle idee come per esempio l'inserimento dei sensori all'interno della singola cella, questo ci garantisce innanzitutto di imparare e conoscere sempre meglio ciò che succede nella cella mentre questa lavora, di andarla a monitorare man mano che essa lavora per quanto riguarda la temperatura cosa che si fa già anche oggi ma fuori dalla cella ma anche andare a monitorare altri parametri come il potenziale di ciascuno dei due elettrodi, l'interfaccia tra l'elettrodo e l'elettrolita quindi proprio all'interno della cella come cambia la composizione chimica e così via, quindi rendendo il sistema molto più sicuro di quanto lo sia oggi, materiali che si autoriparano quindi il sensore può stimolare l'autoriparazione del materiale se si dovesse degradare durante il suo funzionamento, quindi questo è per dire che la varietà e possibilità sono molte, per fortuna le fantasia dei ricercatori è ampia, soprattutto quella dei giovani ricercatori che noi dobbiamo cercare di mettere insieme e stimolare per il futuro ed è un lavoro che stiamo facendo molto all'interno di questo progetto batteri 20 e 30, l'engagement dei giovani cercando di creare una comunità di giovani che sta già lavorando insieme, che ha scritto il manifesto dei giovani in Europa nell'ambito batterie che vi consiglio di andare a scaricare proprio dal sito di batteri 20 e 30 perché stimola noi coi capelli bianchi ma stimolerà spero anche molti giovani che vorranno entrare in questo settore perché è un settore in cui stanno crescendo molte aziende, stiamo parlando di 38 giga factor in Europa e a livello europeo abbiamo stimato che avremo bisogno di 800.000 persone pronte a lavorare in questo settore nei prossimi anni. Cavando di qua e di là nel mondo dell'auto si scopre davvero di tutto, ad esempio lo sapete che a Dubai, se volete fare rifornimento ma non volete perdere il tempo di andare dalla pompa di benzina, potete richiedere il rifornimento a domicilio. E se vi dicessi che questo servizio esiste anche per l'auto elettrica e senza nemmeno andare a Dubai. È il turno di IGAP, società italiana che sta mettendo insieme un ecosistema di servizi di ricarica all'avanguardia. Il loro servizio più conosciuto è quello del van elettrico che arriva e ti ricarica mentre sei a lavoro, magari dove non hai colonine in zona. Questo però è soltanto uno dei progetti sviluppati fin qui. Francesco, allora qua è dove assemblate tutte le batterie che poi sono il cuore pulsante dei van praticamente. Sì, confermo. La batteria è l'asset, è la parte più complessa e più di valore che c'è all'interno di un van e è quella che consente in pratica il servizio di ricarica mobile, quindi di spostare l'energia dove serve. Indicativamente quanti interventi fate con i van? Dipende molto dalle città e dai periodi, però ne facciamo qualche decina al giorno e aumentiamo decisamente in posti dove c'è una maggiore sensibilità a livello elettrico, a livello di elettrificazione come per esempio può essere la Germania. Ma ecco, a proposito di adattamento della necessità di ricarica, so che avete sviluppato di recente un progetto con Pininfarina, anche che ha ancora tutta la parte di design, che è un'aggiunta di servizio rispetto a ciò che già facevate ed è un qualche cosa che potrebbe essere estremamente interessante per coprire le zone che... Corretto. EGAP, in particolare noi rappresentiamo la parte di ingegneria di EGAP, abbiamo sviluppato un insieme a Pininfarina questo prodotto che allarga un po' l'ecosistema della ricarica mobile che abbiamo iniziato con il van. Pininfarina è fondamentalmente una colonnina con un suo pacco batterie che è possibile muovere liberamente dove serve. Quindi dove ci sono problemi di presenza di colonnine e di potenza sufficiente, noi possiamo sofferire a questo limite della rete. Questo è un qualche cosa di importante, più che altro penso magari a zone in cui in alcuni periodi dell'anno può esserci tanta gente, tante persone che devono ricaricare, e poi in altre, molto poche ad esempio, allora in quel caso può essere utile avere una colonia di questo tipo. Assolutamente corretto. Se noi pensiamo che molte delle richieste di ricarica sono stagionali, pensiamo alla Costilla Amalfitana o alle Cinque Terre e anche alle vacanze invernali, è complicato andare a dimensionare un'infrastruttura che possa coprire pochi mesi e che tu devi tenere ferma o sottutilizzata per buona parte dell'anno. La possibilità di spostare oppure servire la domanda, eseguire la domanda facendo un prodotto come il nostro è secondo me fondamentale e fa da facilitatore per la diffusione della mobilità elettrica. Questa tipologia di colonnine lavora comunque anche in alta tensione e in corrente continua, mi raccontavi. Assolutamente. Però senza la necessità di adeguare la struttura locale, quindi questo ovviamente richiede meno investimenti e comunque garantisce un pochettino più la flessibilità di cui appunto parlavamo, cioè sempre basandosi sul concetto di accumulo di energia della batteria, quindi viene ricaricata nei momenti in cui non viene utilizzata, quando serve spara fuori più potenti. Questo è un grandissimo vantaggio perché mentre i punti di carica lenta sono relativamente facili da installare, alla fine basta una rete monofase o trifase, quindi potenze fino a 11 kW, 22 kW sono relativamente semplici da installare anche nei contesti urbani, ma potenze elevate, la ricarica rapida, noi oggi arriviamo a 120 kW, ma abbiamo il programma di aumentare questa potenza e è complicato. È necessario normalmente avere una cabina di trasformazione, media tensione, avere dei permessi. Il tempo medio di installazione di una colonnina, di una colonnina in CCS2, quindi di questo tipo di potenze richiede quasi un anno, tra permessi, installazione o altro. Il nostro prodotto permette, a partire da un semplice punto di alimentazione in monofase e trifase, permette di installare potenze di tutto rispetto, in questo caso parliamo di 120 kW e di ricaricare due macchine contemporaneamente. Anche perché un punto di corrente continua ha un costo alto anche di per sé, sui 100.000 euro. Sì, assolutamente, anche di più. Poi comporta anche degli aspetti proprio di ingombri, dentro le città è abbastanza complicato trovare spazi, trovare le dorsali su cui prelevare questo tipo di potenze. Ecco, al netto di questo, quali sono le tecnologie secondo te più utili per elettrificare una flotta e quindi andare veramente a lavorare su magari milioni di automobili elettriche che sono previste in futuro sulle strade? Riteniamo, per come noi conosciamo l'infrastruttura elettrica e lo sviluppo dell'auto, riteniamo di aver scelto un settore molto importante, anzi potremmo definire strategico, per consentire una mobilità, diciamo così, estremamente diffusa nei prossimi anni. noi sappiamo che dal 2035 non sarà possibile vendere auto a convulsione interna in Europa e quindi l'elettrificazione dovrà essere in qualche modo supportata e non è pensabile, pensiamo ai contesti cittadini, ai palazzi, avere dei punti di ricarica per tutti e soprattutto non è possibile assicurare la potenza necessaria alle persone. In realtà come le nostre possono in qualche modo soddisfare le esigenze più disparate degli utenti, quindi possono dare quel tipo di flessibilità di cui la rete ha bisogno anche per assicurare i clienti e per permettere, per dare quella tranquillità che in ogni caso loro potranno avere la mobilità necessaria e potranno avere sempre la ricarica dove serve. Ora è vero che la parte fondamentale è quella tecnica, però è anche vero che lo sviluppo del servizio è altrettanto fondamentale e in alcuni momenti lo è anche di più, soprattutto in queste prime fasi di adozione di una tecnologia e appunto di un prodotto. Sentiamo cosa da raccontarci Francesco De Meo. Francesco abbiamo visto il servizio in azione del vostro van, ma quanti sono quelli in circolazione all'interno della vostra flotta? La nostra flotta ormai è quasi arrivata a 100 van e sono disposti sia in Italia, quindi nelle città dove siamo operativi in Italia, Milano è stata la prima città che abbiamo aperto, ma la maggior parte sono già da tempo nei paesi esteri, quindi in Francia, in Spagna, in Germania e da pochi giorni anche nel Regno Unito. Quanti sono gli interventi che un van può fare nell'arco della giornata? Allora, il van può effettuare all'interno di una città mediamente una ventina di interventi durante la giornata, nell'arco delle 24 ore. Chiaro che in situazioni particolari dove per esempio possono esserci più vetture vicine, quindi i tempi di spostamento del van si riducono, ad esempio un parcheggio aziendale, il van riesce a fare anche molte più ricariche di quelle previste. Quanto costa invece la ricarica per il cliente finale? Allora, al cliente finale, quindi al cliente che si registra e utilizza il nostro servizio via app, viene applicato un costo di chiamata per un intervento di 7,99 euro, indipendentemente da dove si trova all'interno dell'area operativa. Dopodiché in base all'energia erogata avrà un costo al kilowattora pari a 0,69. Questo quindi ci posiziona a un pricing che è assolutamente in linea con le colonnine di ricarica fisse di tipo fast. Chiaro che negli accordi per esempio con i brand automobilistici riusciamo a offrire al cliente anche un costo al kilowattora, il kilowattora è nettamente più basso. Questa applicazione può essere fatta anche per il car sharing, perché penso che in realtà potrebbe essere interessante un'applicazione in questo senso. Assolutamente, anzi il servizio di delivery dell'energia con il van si taglia molto bene per il car sharing, perché riusciamo a raggiungere il veicolo di car sharing che è parcheggiato in diversi punti della città molto rapidamente, quindi evitiamo anche una serie di costi di gestione di dover movimentare l'auto verso un punto di ricarica, andando direttamente sull'auto a ricaricarla. Abbiamo visto poi anche la colonnina fast che avete sviluppato con Pininfarina, ma quale può essere un'applicazione di questa tecnologia? Quali possono essere gli ambiti in cui questa colonnina ha senso di essere utilizzata? Le applicazioni possono essere molteplici, soprattutto in tutte quelle situazioni dove non si ha disponibilità di potenza energetica e quindi si può installare la colonnina ad esempio in dei condomini, in dei parcheggi aziendali, dove comunque c'è invece la necessità di ricaricare più veicoli contemporaneamente, faccio ad esempio un parcheggio condominale, quindi dividendo un pochino l'energia ad alta potenza riusciamo a dare in più piccoli punti di ricarica. Quindi tutti questi contesti dove non si può avere un'alta potenza e si possono comunque installare diversi punti di ricarica e dare a tutti comunque in maniera anche intelligente, quindi in maniera smart, comunque un'ottima potenza di ricarica. Lo sviluppo del settore di servizio è fondamentale ovviamente per l'utente finale e abbiamo visto appunto un esempio e chissà cos'altro potremo vedere in futuro. Come del resto chissà cos'altro potremmo anche vedere a livello di integrazione delle elettrificazioni in tanti settori diversi, infatti ciò che molto spesso mi rendo conto parlando con le persone che tanti non si rendono conto è la potenzialità di un utilizzo sempre dell'elemento centrale di questo video, ossia le batterie non soltanto per il mondo dei trasporti privato o pubblico ma anche in tanti altri settori, penso alla nautica, le costruzioni, l'edilizia in generale, ancora addirittura l'aerospaziale, insomma ci sono tantissimi altri settori chissà cos'altro non mi viene in mente in questo momento in cui si potrebbero proprio applicare le tecnologie di accumulo dell'energia proprio tramite batteria. Tutto bello, tutto bellissimo anzi in realtà, ma poi una volta che queste batterie arrivano a fine vita e devono essere riciclate, come si fa? Questo è un altro aspetto fondamentale no? Allora abbiamo chiesto proprio a chi il riciclo delle batterie lo fa da anni e punta a farlo in larga scala, in grande stile, nei prossimi mesi. Grazie innanzitutto per il suo tempo, le faccio subito una domanda molto generica se vogliamo, sia come funziona il riciclo delle batterie. Allora il riciclo delle batterie come il riciclo di qualsiasi altro prodotto o componente significa sostanzialmente tentare di recuperarne le componenti di cui sono costituiti, che possono essere componenti diciamo di dimensioni anche grandi, ma anche per esempio composti chimici laddove ovviamente ci siano dei composti che fanno funzionare il prodotto come nel caso delle batterie, dove oltre all'involucro esiste poi, esistono dei materiali al loro interno che consentono alla batteria di funzionare e nel caso di alcune batterie sono anche dei metalli ad alto valore, quindi il loro recupero del via chimica diventa estremamente importante. Ovviamente a seconda del tipo di batteria i processi sono diversi, se prendiamo ad esempio le batterie che conosciamo tutti, delle auto tradizionali, quindi le batterie al piombo che servono per far partire il motore endotermico, questo tipo di batteria è una batteria estremamente semplice. Pertanto anche il processo di trattamento e recupero è relativamente semplice, ci sono tecnologie ormai consolidate da parecchi anni e consistono sostanzialmente nel trattare meccanicamente la batteria recuperando nelle componenti prevalentemente il materiale plastico e poi il piombo contenuto al loro interno che ha un valore molto interessante, molto elevato e che quindi può essere rivenduto e riutilizzato per costruire nuove batterie. Nel caso invece di batterie più complesse pensiamo ad esempio alle batterie al litio, quindi le batterie che accompagnano la nostra vita quotidiana ormai da un po' di anni sia in quelli che chiamiamo device, quindi dalla telefonia cellulare per arrivare poi ad esempio ai laptop o anche agli elettro utensili che utilizziamo senza fili per il nostro bricolage, ecco queste batterie sono batterie al litio. Perché al litio? Perché il litio è un metallo estremamente leggero, è il più leggero della tavola periodica e consente quindi di accumulare molta energia in pochissimo spazio e lo fa anche con poco peso. Quindi sono due elementi di grandissimo rilievo sia nel molto piccolo, quindi nell'energia portatile che dobbiamo portare con noi ad esempio nel nostro telefono cellulare, ma anche ad esempio nella trazione elettrica, dove è importante condensare in poco spazio e in poco peso una grande quantità di corrente. Queste batterie hanno un processo di riciclo decisamente più complesso rispetto a quello ad esempio delle batterie al piombo, innanzitutto perché ci sono dei problemi legati alla sicurezza. Come sapete le batterie al litio sono delle batterie che possono anche incidarsi, quindi il trattamento di queste batterie, a cominciare anche dallo stoccaggio, deve seguire delle procedure che sono anche normate e regolamentate affinché si scongiuri ogni potenziale rischio. Successivamente la batteria viene sottoposta ad un processo che può essere diverso a seconda della tecnologia che utilizza l'impianto. Allora, generalmente possiamo dire che la batteria, la prima cosa a cui deve essere sottoposta è un processo di macitazione, quindi deve essere in sostanza smontata. Tenete conto che le batterie ad esempio delle auto elettriche sono delle grandi batterie, grandi sistemi di accumulo che oltre alla parte delle celle, quindi quelle che effettivamente accumulano l'energia elettrica, hanno una serie di componentistica nell'intorno che deve essere preventivamente disassemblata. Quindi la batteria non va al riciclo così com'è, o quantomeno generalmente non avviene questo. Quello che più comunemente avviene è che la batteria debba essere disassemblata, quindi smontata nelle sue diverse componenti, fino ad arrivare alla parte centrale, quindi alle celle, che sono quelle che accumulano e rilasciano anche l'energia elettrica per il funzionamento del veicolo. Ovviamente tutte queste componenti accessorie, che sono fatte di cavi, sistemi ovviamente di temperatura e quant'altro, sono costituite da metalli e materiali plastici che possono essere riciclati secondo canali più meno convenzionali. La parte invece di accumulo delle celle, una volta disassemblata, viene inviata a degli impianti dove queste celle o questi moduli vengono trattati meccanicamente per poter quindi liberare le componenti di cui sono costituiti. E qui incontriamo ancora metalli, plastiche, ma soprattutto incontriamo quella che nel nostro gergo viene chiamata la black mass, la parte nera, cioè in sostanza la polvere all'interno della quale vengono contenuti metalli che consentono poi alla batteria di svolgere la sua funzione elettrochimica. E quindi avrete senz'altro sentito a parlare del litio, ma anche del cobalto, ad esempio del nickel, tutti metalli che hanno un valore di pregio e che quindi è opportuno riciclare e recuperare, sia in ottica ovviamente di economia circolare, ma anche per quello che sarà da qui a poco tempo, diciamo un anno e mezzo, due anni, l'arrivo di una nuova regolamentazione che ci viene dall'Europa e che disciplinerà tutto il comparto delle batterie, compreso anche il riciclo. Ecco, tenete conto che per la prima volta questo regolamento introdurrà dei target di riciclo sulle batterie e anche dei target di riciclo dei metalli, quindi il litio, il nickel, il cobalto, il manganese e così via. Questo perché? Perché, come sapete, la mobilità elettrica ha un forte sviluppo soprattutto in Europa, oltre che nei mercati asiatici, ma l'Europa è priva di materie prime. Quindi è importante che in ottica di economia circolare questi materiali trovino recupero attraverso le batterie stesse per essere reinventati. Ed infatti immaginate che questo regolamento prevede che i produttori di batterie, da qui a qualche anno, dovranno poter garantire il riutilizzo di materiale proveniente da riciclo nelle loro batterie nuove. Quindi l'economia circolare non è soltanto applicata in questo caso alle batterie, un concetto astruso, ma è un qualche cosa che troverà applicazione concreta anche con il sostegno della legislazione. Quindi questi sono i percorsi che caratterizzano il recupero e il trattamento delle batterie. Ovviamente le tecnologie possono essere diverse, diciamo che sono tutte accumulate nella prima fase, è un trattamento meccanico che ha come obiettivo ovviamente il recupero dei materiali. Poi però il processo di recupero dei metalli contenuti nella parte chimica possono essere diversi, possono essere termici, possono essere idrometallurgici o anche misti. Diciamo che per efficientare però il recupero tendenzialmente ci si spinge verso un recupero di tipo idrometallurgico, quindi di pura chimica che consente quindi di efficientare al massimo il recupero rispetto ad un trattamento ad esempio termico o misto, termico e idrometallurgico. Attualmente in Europa esistono gli impianti, questo bisogna dirlo in maniera molto chiara, le batterie a litio non rappresentano un problema ambientale per la mobilità elettrica. Chi ad esempio sostiene che non si sa che infine facciano le batterie delle auto elettriche o anche di un monopattino elettrico o di una bicicletta elettrica non è informato. Esiste una legge, il regolamento a cui accennavo è una innovazione, una legge già esistente, ma esiste una legge oggi che obbliga un produttore o chi commercializza o chi mette sul mercato queste batterie ad aderire ad un sistema di raccolta come ad esempio il Cobat che si faccia carico della raccolta di queste batterie e del corretto recupero. Gli impianti attualmente esistenti in Europa, in Italia al momento non ce ne sono, sono degli impianti che hanno però delle tecnologie che possono essere ulteriormente efficientate e dovranno farlo in prospettiva ovviamente dell'entrata in vittore del nuovo regolamento a cui si accennava poco anzi. Ma questo non significa che oggi le batterie a litio non vengono riciclate, tutt'altro accidenti vengono riciclate, vengono riciclate in impianti che oggi stanno facendo anche revamping per avere quindi delle ottimizzazioni nei loro processi che rilendano conformi a quelli che saranno i requisiti richiesti dal nuovo regolamento. In Italia cosa sta succedendo? In Italia sta succedendo che Cobat sta realizzando nel centro Italia il primo impianto per il totale recupero delle batterie a litio e essendo partiti diciamo più in ritardo, però abbiamo il vantaggio di aver concepito questo impianto con le tecnologie che consentono di avere però il massimo dell'efficienza in vista dell'entrata in vigore del nuovo regolamento. Quindi sarà un impianto che oltre alla parte ovviamente di triturazione iniziale, di macinazione iniziale, sarà ovviamente nel pieno rispetto dei requisiti ambientali e anche di sicurezza ambientale, tratterà la black mass, quindi la parte chimica, attraverso un processo idrometallurgico, quindi senza l'impiego di forni, per avere il massimo efficientamento del processo e l'ottimizzazione del recupero. L'impianto lo stiamo realizzando in questi mesi e riteniamo che possa entrare in esercizio dall'inizio del prossimo anno, del 2024, per arrivare poi a compimento di tutte le tecnologie impiantate entro il 2024. Quindi tornando al discorso, essendo in esercizio diciamo totale nell'arco dell'intero 2024. Quindi allo stato attuale appunto viene tutto inviato all'estero ma poi appunto subentrerà un nuovo impianto che ci permetterà di poterci riportare così alla pari quantomeno dei processi sviluppati all'estero. Ma quanto possiamo aspettarci di recupero di una batteria, cioè il 100% o percentuali inferiori? Il nuovo regolamento prevedrà che in termini di peso le batterie dovranno essere recuperate almeno al 60% del loro peso. Quindi questo per far sì che materiali non recuperabili che possano essere, o a basso valore, che possano essere ricompresi all'interno della batteria, partecipando quindi al computo, possano essere scorporati. Ma questo per quanto riguarda la percentuale di riuscito della batteria in termini di peso. Mentre invece quello che verrà richiesto oltre alla percentuale del peso sarà richiesto di raggiungere dei target ben specifici e crescenti nel tempo anche dei metalli contenuti all'interno della batteria. Qui dicevamo il litio ad esempio, il rame, il cobalto, il nickel e così via. Ovviamente questo è uno strumento legislativo che è stato adottato per imprimere un processo di efficientamento che garantisca il recupero di questi materiali ai fini della loro riutilizzazione nei processi evolutivi. Quindi quello che dicevamo prima, rendere le fabbriche che in Europa costruiscono batterie in grado di poter utilizzare anche questi materiali per poter riprodurre le loro batterie. Quindi affrancandosi, non avverrà mai in maniera totale, però in maniera sensibile e significativa, dalla materia prima estera, che viene ad esempio dal Sud America piuttosto che dalla Cina, in ottica ovviamente di rendersi più autonomi dal punto di vista dell'importazione, ma anche avere un impatto sull'ambiente mitigato dal fatto che non c'è energia spesa per produrre questo materiale da fonte primaria, ma riusciamo ad ottenerla da fonte riciclo. Questo è l'obiettivo della direttiva, per migliorire del regolamento. È possibile aspettarsi una maggiore economicità dal processo di riciclo rispetto all'estrazione e alla produzione di nuovi componenti? Cioè effettivamente si riuscirà a rendere industrializzabile il processo magari di economia circolare, come si è paventato insomma in questi anni? Noi riteniamo che questo sia possibile, perché vede il costo di produzione da fonte primaria a fonte secondaria non può non tener conto di quelli che sono i costi associati, e cioè i costi ambientali, i costi anche di una corretta manodopera che ovviamente non sfrutti il personale umano e allo stesso tempo garantisca degli impatti sull'ambiente anche da estrazione primaria che non siano troppo forti sul territorio circostante, o vadano a incrociare in maniera negativa delle altre fonti, come ad esempio quella dell'acqua per le popolazioni locali. Quindi è opportuno tenere presente due aspetti. La sostenibilità del riciclo deve tener conto di una sostenibilità da fonte primaria, diciamo in comparazione, che tenga conto di tutti questi aspetti. Quindi impatti ambientali, impatti energetici, costo della manodopera e soprattutto impatti sulla popolazione locale. Questo è importante, è importantissimo. Laddove l'economia non dovesse riuscire ad essere competitiva, teniamo conto però che i costi per il trattamento e il riciclo e il recupero delle batterie non debbono necessariamente fondarsi sulla sostenibilità del processo in sé, ma viene chiesto, e questo è uno degli strumenti secondo me più avanzati anche dell'Europa, della responsabilità estesa del produttore, cioè il produttore chiamato in primo ordine a farsi carico di questi costi, laddove il sistema economico puro non riuscisse a garantire il recupero di questi materiali a fine vita. Questo è fondamentale, perché vuol dire che ci sarà sempre, in ottica ovviamente dell'applicazione di questo principio, cioè del principio della responsabilità estesa, ci sarà sempre una fonte di finanziamento in grado di pareggiare quei costi laddove un sistema di puro mercato non dovesse riuscirci. Questo non è soltanto vero per le batterie a litio, è un principio oramai adottato in Europa a decenni e che per esempio contraddistingue anche altre filiere come quella delle apparecchiature elettriche e elettroniche o anche note come RAE, anche lì quando noi compriamo un frullatore ci viene applicato un contributo ambientale che serve poi a sostenere i costi della filiera. Questo contributo ambientale sarà tanto più ampio quanto più la filiera, in puro equilibrio diciamo di mercato, non dovesse riuscire a garantire la copertura dei costi per il recupero di quei materiali. Quindi da un punto di vista finanziario è questo il sistema per garantire sempre il funzionamento della filiera, tenendo conto appunto che i costi veri debbano tener conto di un life cycle assessment dell'intero prodotto, come si suol dire dalla culla alla tomba. E quando noi andiamo a computare questi costi quasi sempre il riciclo è in grado di poter competere con i costi da produzione primaria. Insomma come avete visto abbiamo voluto fare in maniera rappresentativa del tutto, rappresentativa un viaggio, proprio partendo dalla ricerca accademica, da coloro che un domani andranno a lavorare proprio sullo sviluppo delle tecnologie per un'adozione di batterie più efficienti, si spera, ma anche di tecnologie in generale legate proprio al mondo dell'elettrificazione e delle vetture puramente elettriche, anche perché no, e questo porterà ovviamente ad avere in futuro anche uno sviluppo sempre più ampio di maggiori tipologie di servizi, ma ancora poi c'è il riciclo, il riuso delle batterie fondamentali affinché proprio questa applicazione in massa di vetture a batteria possa diventare effettivamente positivo per l'ambiente, magari non soltanto relegandolo appunto all'utilizzo nel settore del trasporto privato e pubblico, ma anche per un utilizzo in generale in tanti altri settori come abbiamo visto. Sicuramente ci sono molte altre aziende che magari non conoscevo e non abbiamo coinvolto in questo viaggio, ma anzi vi invito a segnalarmele nei commenti perché non si sa mai appunto per il futuro potrebbe essere interessante andare a scoprire ulteriori possibilità e andarvele poi a raccontare proprio sul nostro canale YouTube. Insomma c'è sicuramente tantissimo da lavorare anche perché in realtà ora come ora sembra ancora di essere al palo rispetto a tante altre nazioni e parlo non soltanto dell'Italia ma parlo dell'Europa in generale dove comunque dei progetti di sviluppo anche di Gigafactory, di produzione in larghissima scala di batterie che è fondamentale affinché poi tramite l'utilizzo della scala di produzione si possa andare ad abbattere il costo della singola unità, ebbene l'Europa a questo momento sembra che comunque sia rimasta ferma al palo in un'adozione della tecnologia che da altre parti nel mondo sta correndo veloce ed è già in realtà, penso appunto alla Cina, penso evidentemente anche all'America dove Tesla la fa da padrone evidentemente, ma tramite proprio anche un'alleanza con produttori cinesi, produttori coreani, permette di poter avere su strada vetture molto efficienti e soprattutto di avere centinaia di migliaia di vetture vendute in tutto il mondo, quindi il mercato effettivamente c'è e allora cosa si sta aspettando affinché possa esserci veramente un disegno industriale che sia legato allo sviluppo di queste vetture? Se effettivamente dopo domani, cioè il 2035, si vorrà arrivare a vietare l'utilizzo di vetture interamente a combustione. Ci sono tantissime cose di cui poter discutere proprio nei commenti, ci sono tanti spunti di riflessione secondo me proprio andando a raccontare questa tematica e siamo andati a raccontare quella che è l'esperienza diretta di persone che già oggi lavorano affinché si possa portare l'elettrificazione su strada in larga parte, che possa essere anche utilizzata da milioni di persone e che non resti soltanto relegata a una parte la più benestante diciamo della società, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, insomma che si possa effettivamente andare in un futuro ad avere una elettrificazione di massa. Ringrazio ovviamente voi per averci seguito per tutto questo tempo, vi dicevo è una sfida che vi abbiamo voluto lanciare, l'abbiamo voluta lanciare non soltanto a noi ma anche a voi perché evidentemente il video, sapevamo, sarebbe stato molto lungo e se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio e vi faccio anche i miei complimenti, soprattutto lasciate un like, commentate, sapete che YouTube premia l'interazione, quindi fatevi sentire e soprattutto premiate il nostro lavoro in questo senso e soprattutto ancora di più fatemi sapere la vostra su questo argomento. Noi ci vediamo alla prossima, sempre questo era ok, mi raccomando fatemi sapere la vostra. Ciao a tutti!